Buonasera amici, sono appena andata da Stella Z a fare acquisti nel punto vendita del mio paese e ora vi mostro che cosa ho acquistato. Allora, ho preso questo meraviglioso paio di orecchini pagandoli con il saldo del 70%, guardate che belli, hanno i petali, sono fiori e al centro la corolla. Di ogni fiore è costituita da perle. Il saldo del 70% è sul prezzo originale di 7,99€. Poi ho acquistato questo fermaglio per i capelli. Eccolo qui, è bellissimo, ha questa pietra grande centrale e tutti gli altri strass intorno. Anch'esso l'ho preso con il saldo del 70% sul prezzo originale di 6,99€. Davvero bellissimo. Vi piacciono i miei acquisti? Fatemi sapere, vi leggo nei commenti.